Giovedì 23 giugno ci troviamo a Roma per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Titolo della giornata a progettare per il benessere design, tecnologie e funzionalità applicate all'ambiente bagno. Oltre 200 architetti hanno potuto ascoltare le novità presenti oggi sul mercato e allora andiamo a raccontarle attraverso questo servizio che abbiamo realizzato. Produciamo cassette di scarico dei bagni WC, quindi da incasso ed esterne. Siamo presenti nel mercato della termoidraulica dal 79, siamo un'azienda familiare che adesso ha ultimato il terzo ricambio generazionale e andiamo avanti. Ho colto questa occasione di questo convegno degli architetti perché abbiamo proposto e stiamo puntando molto principalmente su due prodotti. Uno è una cassetta igienizzante, è la prima cassetta presente sul mercato da un prodotto da noi brevettato che permette di igienizzare ad ogni utilizzo, ad ogni scarico il vaso, il WC. Quindi evitiamo tutti gli igienizzanti da WC, da banco che ci sono oggi sul mercato e con un prodotto esteticamente valido e funzionale si riesce anche a garantire sia l'igienizzazione dei vasi ma anche questo prodotto svolge una funzione di anticalcare in cassetta perché questo igienizzante va a finire anche nell'acqua della cassetta e non è richiesto nessun prodotto particolare se non quelli da banco, da supermercato che il singolo privato sceglie di utilizzare indipendentemente dalla cassetta. Quindi è un prodotto molto funzionale e esteticamente valido perché noi pensiamo che la placca è spesa 7 mm dal muro quindi minimi ingombri. Un'altra novità che abbiamo lanciato anche qui e proposto al convegno è quella di un depuratore, il Sigal 4, per cui noi siamo distributori in Italia dal 1991 in quanto l'azienda produttrice della cartuccia filtrante è la General Ecology che è un'azienda americana e questo l'origine proprio, come è stato studiato e ideato questo prodotto per capire anche la portata e la differenza rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato che non si avvicinano alla qualità di questo prodotto perché nasce proprio dall'esigenza di fornire all'esercito militare americano successivamente alla guerra e agli attacchi terroristici la possibilità di dare acqua potabile in terreni contaminati. Quindi ecco, questa è l'idea che sta a monte di questo sistema di depurazione e purificazione dell'acqua. Oggi quindi noi presentiamo questo Sigal 4 che ha diversi modelli ma che per un'abitazione e per una famiglia media di 4 persone il modello è l'X1 che permette la possibilità, anche proponendo il rubinetto a tre vie, quindi eliminiamo il rubinettino accessorio che obbliga la persona a fare un foro aggiuntivo sul lavello. Con il rubinetto a tre vie invece viene collegato direttamente il depuratore da sotto il lavello al rubinetto e quindi da un unico prodotto si ha la possibilità di utilizzare sia l'acqua depurata che l'acqua calda e fredda.